Disponibilità a potenziare il polo universitario di Pesche, ma per quanto riguarda scienze politiche la vicenda è definitivamente chiusa. I corsi di questa facoltà si svolgeranno a partire dal prossimo anno a Campobasso. Questa è la posizione espressa dall'Università del Molise, che ha così risposto alle sollecitazioni giunte dal sindaco di Pesche, che aveva auspicato una mobilitazione anche degli altri comuni dell'Isernino, affinché la Facoltà di Scienze Politiche non lasciasse la sede di Pesche. In relazione all'appello lanciato a nome del Consiglio Comunale dal sindaco di Pesche, relativo alla presenza di Unimol nell'attuale sede, l'Università, si legge in una nota, conferma il proprio impegno a rafforzare l'offerta formativa con riguardo ai corsi del Dipartimento di Informatica ubicato nella predetta sede e fa già presente di aver avviato l'iter per la laurea magistrale, che si auspica possa partire quanto prima. Quanto ai corsi di Scienze Politiche, si osserva che gli stessi, viene precisato nella nota dell'Ateneo, non si sono mai svolti presso la sede di Pesche, se non in via del tutto transitoria, nel secondo semestre dell'anno accademico in corso. In sostanza, quindi, l'Unimol, per ciò che concerne Pesche, punterà con decisione al potenziamento di informatica. A Isernia, invece, come già annunciato nei giorni scorsi, verrà creato un polo infermieristico con i corsi che si svolgeranno nella sede di Via Mazzini, situata nel centro storico della città.